Sto vivendo Una crisi, una crisi C'è sempre ogni volta Che qualcosa non va Sto vivendo una crisi E una crisi E nell'aria ogni volta Che mi sento solo So che rimarrò distratto Per un po' Quindi rimarrò Altrettanto distante Quando inizia una crisi È un po' tutto concesso Quasi come a carnevale Quando è in corsa una crisi Dimentico tutto E posso farmi perdonare E so che rimarrò un po' Assente da scuola E forse non andrei Nemmeno al lavoro Quando arriva una crisi Riaffiorano alcuni ricordi Che credevo persi Cosa penso di me Cosa voglio da te Dove sono Cosa sono E perché Ho il sospetto Che non sia un buon esempio Camminare un metro e mezzo Da terra Molto spesso Molto spesso Una crisi È tutt'altro Che folla Un eccesso Di lucidità Sta finendo La crisi Ogni volta Che passa Una crisi Resta qualche Taccia Infatti Ultimamente Rido Per niente E non mi nascondo Più facilmente E marcando Sempre In male Cambia solo il modo Di giudicare Compazio Appazzio Appazzio Almasow Abazzio Ti ho annunciato Ciao E no Adesso Om In male è una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco. Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia. Esclusivamente un'esigenza di restauro, mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno. Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere. Perché?